Insomma, abbiamo avuto un rapporto bellissimo. È stato approvato il bilancio Steat, ma il tema è tutt'altro. Saluti e abbracci del Presidente Fabiano Alessandrini, che non ha nascosto un po' di commozione, Presidente. Beh sì, dopo 14 anni c'è la commozione, una parte della mia vita importante. È stata un'esperienza amministrativa, ma soprattutto umana, importantissima. Ho trovato persone splendide che mi hanno aiutato in questo lavoro. Lasciarle, insomma, tocca il cuore. Abbiamo fatto tanto, abbiamo l'orgoglio di restituire questa azienda in ordine. Chi la prenderà avrà un'azienda messa bene, fiore all'occhiello. C'è questa soddisfazione, però lasciare tutti questi ragazzi, queste persone che lavorano con il cuore per l'azienda, sono un po' di malingonia la mette.